E' emergenza sicurezza nel centralissimo parco urbano di Piazza Kennedy ad Avellino da pochi giorni intitolato al già sindaco Antonio Di Nunno. Qualche volta c'è stato qualcuno che è stato umbriaco o qualcuno come il tempo fa si è detto fuoco là. Il titolare del bar ubicato nella casetta comunale di vetro del parco ha presentato un esposto in questura per invocare maggiori controlli in quella che si è trasformata in una vera e propria terra di nessuno. Alcuni giorni ci sono persone poco raccomandabili e diciamo fanno un po' di tutto nel parco. Ad esempio? Bisogni, ci sono persone, molte persone che vengono qua, bivaccano, si po' alterisce, bevono e si sdravano sulla panchina proprio dopo aver in preda gli effetti dell'alcol. Movimenti sospetti, disturbi, fastidi per i tanti cittadini che vorrebbero passeggiare sereni e sicuri tra i percorsi. Questo è quanto raccontato dai frequentatori dell'Aria Verde. Ma basta qualche soggetto che arriva insomma all'improvviso, già sa dove venire e da chi venire e noi praticamente dobbiamo automaticamente andare via. Perché sono soggetti pericolosi purtroppo, perché sono ubriachi, perché sono drogati, non lo so. Però noi siamo costretti ad andare via e questo non è giusto. I cittadini lamentano la presenza di tossicodipendenti, anche stranieri, personaggi rissosi e inclini al bivacco senza regole. Violenza, effrazioni, mancanza di civiltà, di senso di civiltà totale, di tutto e di più. Se ne devono soltanto andare, senza se o ma.